Buonasera e bentornati ad un'altra puntata di più forte. Anche oggi, attenzione, puntata sul territorio abruzzese, ma in questo caso specifico non solo, anche sull'intero paese. Siamo in compagnia infatti del deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Genaro. Benvenuto, bentornato a più forte. E dunque, siamo in piena attualità perché in queste ore, in questi giorni, in discussione, in commissione bilancio alla Camera, la legge finanziaria. Partiamo da qui. Quali sono le ripercussioni, speriamo in positivo, per il paese e per il territorio abruzzese e te la mano? Buonasera a tutti. Sicuramente il lavoro che è stato fatto dal Governo è stato un lavoro importante, che ha preso parecchie settimane, ma finalmente la legge finanziaria è arrivata alle Camere. Attualmente in discussione alla commissione bilancio, di cui io faccio parte, ho preso una pausa proprio per venire a termo qui a Teleponte. E la ringraziamo per questo. Proprio per spiegare i punti più importanti della manovra e anche i punti che poi riguarderanno il nostro territorio. Il primo aspetto importante, che forse nei media nazionali non è stato spiegato, è che con la legge di bilancio che andiamo a provare, abbiamo bloccato l'aumento dell'IVA. L'aumento dell'IVA era una clausola messa dai precedenti governi, già a partire dal Governo Berlusconi, nel 2011, con tutto quello che è il fiscal compact. In questo caso, se la situazione economica ha dei leggeri problemi, scattano degli aumenti, in questo caso sia di IVA che di Accise, e grazie a questa manovra finanziaria noi andiamo a bloccare un aumento automatico che sarebbe stato previsto, che ci aveva inserito il Governo Gentiloni, che costa 12,4 miliardi. Ad esempio l'IVA sarebbe passata dal 22 al 24%. In questo caso cosa succede? Se l'IVA aumenta, i consumi hanno un'ulteriore contrazione e quindi ovviamente tutto il ciclo economico rallenta. Quindi questa è una cosa veramente importante, che è stata, si può dire, quasi nascosta dai media nazionali, però è una cosa importantissima, perché se noi andavamo a aumentare ulteriormente l'IVA, questo avrebbe creato veramente dei effetti distorsivi su tutto il ciclo economico, poi soprattutto a danno dei consumatori. Naturalmente, perché come è ben noto, poi cerchiamo anche di spiegarlo in maniera molto semplice, qualunque prodotto costerà di più, perché l'IVA che si va ad aggiungere chiaramente aumenta il costo di quel prodotto, che sia esso materiale che immateriale, quindi chiaramente spese maggiori per i cittadini. E questo mi sembra un aspetto molto positivo, ce ne sono degli altri in particolar modo da sottolineare? Allora, finalmente su questo siamo stati molto attaccati, a differenza dei precedenti governi, noi cosa facciamo? Facciamo una manovra economica espansiva. Cosa è successo? Negli anni precedenti, soprattutto con una contrazione degli investimenti e della spesa pubblica, con le politiche di austerity, i governi precedenti, sulla base delle ricette dell'Europa, di tutti i professoroni che abbiamo a Bruxelles, ci hanno imposto delle manovre finanziarie che prevedevano pochi investimenti. Con pochi investimenti il ciclo economico non è ripartito e siamo il paese, dei 30 paesi dell'Ox, che cresce meno in tutto il mondo. Allora, con questa manovra qua andiamo finalmente ad aumentare gli investimenti pubblici. Per fare questo, ad esempio, nel 2018, quindi l'anno in cui si chiude, abbiamo il più basso tasso di investimenti pubblici nella storia dell'Italia. Con la manovra finanziaria invece andiamo a aumentare gli investimenti pubblici, costituiremo anche una cabina di regia all'interno del Ministero dell'Economia. Che cosa farà? Spesso anche i ministeri si prendono delle risorse, ad esempio a budget si dice che devono fare una serie di investimenti. Poi per una serie di motivi, burocrazia, stessa anche cattiva progettazione, i investimenti non vengono realizzati. Allora, attraverso questa cabina di regia, che è anche una dotazione finanziaria, permetterà nel momento in cui non vengono presentati i progetti, non si realizzano, proprio di andare a prendere questi soldi e riutilizzarli in altri ministeri. Quindi questo è un fattore importante. Un altro fattore importante è proprio la Costituzione di Investitalia, che sarà un'unità di missione all'interno della Presidenza del Consiglio, che andrà a realizzare tutta una serie di progettazioni e coordinamento dei vari progetti. Cioè l'obiettivo è rilanciare gli investimenti pubblici, perché solo con questa modalità qua è l'unica ricetta per far ripartire il ciclo economico, perché poi noi abbiamo tutta una serie di problemi. Abbiamo il disesto idrogeologico, abbiamo le infrastrutture che sono carenti in Italia. Solo in Italia mancano a livello nazionale, quindi non parliamo di livello di comune o di regione, ma mancano infrastrutture per 30 miliardi di euro. Quindi un po' la volta, con questo sblocco di questi investimenti, andiamo a colmare un gap che in questi anni non ci permette di essere competitivi come negli altri paesi. Faccio un altro esempio importante. Abbiamo destinato risorse importanti a tutto quello che è ricerca e innovazione. Abbiamo costituito, andremo a costituire con la finanziaria, un importante fondo che permetterà di investire in tutto quello che sono le nuove tecnologie. L'Italia è carente di tecnologia, ad esempio negli altri paesi, nei Stati Uniti ma anche nei paesi del sud-est asiatico, ci sono grosse aziende, grossi investimenti su tutto quello che è venture capital, intelligenza artificiale, blockchain. Ecco, noi andremo proprio a costituire un fondo che andrà a investire proprio su start-up, su tutte quelle realtà che stanno nascendo, perché l'Italia veramente è su questo, è ai primi posti. però c'è solo una fase embrionale iniziale e poi i giovani, ma non solo, anche tutti gli imprenditori si trovano in una fase in cui non hanno accesso ai capitali per poter sviluppare le proprie idee, i propri progetti, i propri brevetti. E cosa succede? Succede che sono poi costretti ad andare all'estero e ci sono veramente le realtà italiane che sono andate all'estero, che sono cresciute. Se noi riuscissimo a mantenere qui in Italia tutto questo potenziale, tutti questi talenti, noi veramente potremmo dare un contributo non solo al nostro tessuto economico, ma proprio al nostro potenza industriale, che ricordo noi siamo comunque il secondo struttore manifatturiera a livello europeo, quindi abbiamo ancora una forza economica e industriale da preservare, ma anche da sviluppare. E quindi mi sembra che queste siano soprattutto le ultime importanti riforme a favore di imprenditori e professionisti. Ce n'è ancora qualcuna che magari non abbiamo elencato? Allora, noi ci siamo concentrati soprattutto su tutto quello che è piccola e media impresa. Abbiamo inserito nella legge bilancio un importante provvedimento che è la flat tax per le ditte individuali professionisti. Cosa succede? Succede che con questa flat tax noi fino a 65 mila euro di reddito abbiamo una tassazione agevolata al 15%. Questo cosa permette? Cosa permette? Di intanto andare a definire, programmare quale già è la tassazione, quindi abbiamo una semplificazione. Questo permette veramente di dare ossigeno a tutta una serie di partite IVA professionisti che in questi anni sono stati veramente colpiti dalla crisi, perché noi arriviamo veramente da quasi a partire dal 2008, una crisi che ha colpito tutto il nostro tessuto economico. Ma anche perché prima la tassazione era intorno, non vorrei dire un dato inesatto, ma intorno al 40%. Beh sì, la tassazione, se non applico la flat tax, io ho una tassazione che è quella ordinaria, quindi vado a pagare l'IRPEF. Certo ho alcune detrazioni, però al netto di questo, questo invece è veramente uno strumento importante. Poi a partire dal 2020, l'abbiamo inserito in finanziaria, abbiamo anche la possibilità di avere una flat tax anche per i redditi dei professionisti delle partite IVA dai 65.000 ai 100.000 euro, andrà a pagare il 20%, quindi questo parterà poi dall'anno dopo. Ovviamente abbiamo dato una gradualità a tutta una serie di riforme, perché non è semplice, poi il budget è contenuto. Poi abbiamo anche l'Unione Europea che non ci consente di essere andati molto più in là, con la flessibilità, facciamo quello che possiamo con le risorse che abbiamo a disposizione. E si spera anche che con questa flat tax si paghino anche le tasse, insomma ci sia meno evasione, questo potrebbe essere anche un vantaggio. Sicuramente l'Italia è uno dei paesi che ha il più alto a livello di tassazione a livello dell'Occidente. Abbiamo messo anche altre misure importanti che, ad esempio, abbiamo delle detrazioni sull'efficienza energetica, l'istruttore di edilizia e anche sistemazione del verde. Tutto questo per poi anche aiutare, da un lato, certezza della tassazione, che è importante, e dall'altro semplificazione. Sono misure importanti, certo si poteva far di più, però queste sono le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi abbiamo cercato di aiutare tutti quei parti della società che sono state veramente colpite in questi anni. Abbiamo avuto una classe media che è stata colpita in maniera diretta dalla crisi. Quindi abbiamo cercato anche e soprattutto a piccoli artigiani, commercianti, di dare un aiuto concreto con queste modalità. Per quanto riguarda invece le famiglie, cosa prevede la manovra, il loro sostegno? Per quanto riguarda le famiglie, noi abbiamo messo in finanziaria forse i due punti più importanti di tutta la legge di bilancio. Da un lato sono il rettito di cittadinanza. Il rettito di cittadinanza, che ho già avuto occasione qui, essendo ospite, di spiegare nel dettaglio, che è un programma sostanzialmente di formazione e di accesso al mondo del lavoro. Noi abbiamo in Italia persone che sono uscite dal mondo del lavoro o giovani che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro perché non sono stati aiutati dallo Stato attraverso un meccanismo efficiente di formazione e quindi domanda di lavoro e offerta non si riescono a incontrare. Abbiamo anche tante aziende che non riescono ad avere per particolari categorie professionali personale formato. Allora, attraverso una serie di riforma dei centri per l'impiego, abbiamo messo un emendamento in cui andremo a assumere il nuovo personale per i centri per l'impiego, sono fondamentali, come in tutti i paesi a livello europeo. Se funzionano i centri per l'impiego, abbiamo, agevoliamo domanda e offerta di lavoro e attraverso la formazione noi riusciamo a portare le persone sul lavoro. Per fare questo, ovviamente, se una persona, è il tanto delle critiche che ci vengono fatte, che dicono, noi paghiamo le persone per stare a casa sul divano e prendono il reddito di cittadinanza. Così non è, perché se io faccio un programma di formazione, io sono impegnato a fare quel programma di formazione e nel frattempo, ovviamente, come vivo, vivo grazie al reddito di cittadinanza. Poi all'interno di questo programma ci sono otto ore da destinare a settimana, da destinare ai comuni, alle amministrazioni. Poi vedremo come rimoduleremo questo aspetto, poi andrà definito nel dettaglio, nei collegati alla legge di bilancio, con dei decreti autoattivi che dovranno fare i ministeri. Però lo sblocco con questa finanziaria è che finalmente lo Stato comincia a far ridare ai cittadini quello che negli ultimi anni è stato magari dato alle solite lobby, ai soliti centri d'affari, alle solite grandi industrie che spesso hanno preso gli incentivi e poi sono andati all'estero a delocalizzare. Un'altra cosa importante è la pensione di cittadinanza. Noi abbiamo pensioni minime che sono sotto la soglia di povertà, come individuato dall'Ocse, quindi noi porteremo con la manovra finanziaria le pensioni minime a 780 euro. Se io faccio un esempio, prendo 400 euro di pensione minima, mi vengono dati 380 euro di integrazione per arrivare a 780 euro. Perché 780 euro? Perché è la soglia minima sotto la quale si è in una soglia di povertà individuata proprio dall'Ocse. Quindi per questo abbiamo definito questo perimetro. Quindi mi sembrano misure importanti da un lato sia per chi, soprattutto anche i pensionati che sono stati colpiti in questi anni, soprattutto sul potere d'acquisto. I prezzi crescevano mentre i salari e in questo caso le pensioni sono rimaste ferme. Quindi mi sembra giusto dare un contributo da parte dello Stato a queste persone che hanno lavorato per costruire il paese che oggi abbiamo. Sembrano tutte ottime e lodeboli iniziative. C'è magari qualche trucco che bisogna aspettarsi? Perché quando le notizie sono così belle c'è sempre chi pensa, ma chissà se effettivamente sarà così, come per esempio i famosi 150 euro che furono accreditati, i dipendenti statali che poi sembrava siano stati tassati. Insomma c'è sempre, io cerco di farmi interprete anche dei nostri amici a casa, c'è sempre il trucco dietro qualcosa che sembra di positivo. Allora noi siamo molto sotto attacco dai media tradizionali, dalle forze di opposizione e anche se vogliamo da una parte a livello politico dell'Europa, perché dicono che la nostra manovra è una manovra assistenziale e non è una manovra legata agli investimenti. Così non è perché ho spiegato prima che ci sono grossi investimenti, c'è un grosso pacchetto di investimenti pubblici, ma la cosa importante è che se noi non partiamo dal far ripartire il ciclo economico, se noi non cominciamo a dare alla gente un minimo di reddito perché possa poi spendere, perché si possa anche sentire tranquilla di veramente abbiamo milioni di persone che sono sotto la soglia di povertà, che non riescono ad arrivare a fine mese, che non riescono a fare la spesa. Se noi non permettiamo a queste persone di raggiungere dei livelli minimi di sussistenza, noi avremo un paese sempre più povero. Ricordo che questi anni noi abbiamo avuto una media di 330-150 mili italiani che sono andati all'estero e non solo sono i giovani, ma sono tante persone anche che hanno perso magari un'attività all'azienda, o pensionati che non ce la fanno più a vivere con le nostre pensioni, sono costretti ad andare a fare i pensionati all'estero, in tanti casi dalla Bulgaria alla Tunisia. Ecco, mi sembra che questo non sia in linea con un paese che voglia considerarsi tra i primi paesi al mondo e quindi fare finalmente una politica espansiva per fare ripartire il ciclo economico, non lo dico io, ma lo dicono esperti, premi Nobel, è sicuramente la cosa da fare. Dico un'altra cosa e aggiungo, i paesi che hanno in questi anni, hanno dotato la ricerca dell'austerità, si trovano in una grossa crisi economica, sociale, lo vediamo in questi giorni in Francia con la ribellione di fatto dei gilet gialli, perché? Perché politica e austerità, ad esempio in Francia hanno aumentato non solo la benzina, che è aumentata mi sembra dal 20-30%, ma tutta una serie di spese, ovviamente la gente si trova colpita da manovre di austerità e cosa deve fare? Cioè si trova in una situazione di oggettiva difficoltà. Quindi o l'Europa comincia a fare politiche espansive e quindi non solo sostegno al reddito, ma anche investimenti e se no il destino dell'Europa è che ci sarà solo un paese che sta bene, che è la Germania e tutti gli altri paesi che si troveranno un'oggettiva difficoltà. Noi come governo abbiamo detto di no, questo ovviamente non piace a tutti i paesi a livello europeo perché preferiscono un'Italia debole, un'Italia in difficoltà, ma noi abbiamo un popolo da difendere, abbiamo delle aziende da difendere e quindi questa manovra va proprio nell'interesse del popolo italiano. E speriamo che tutte queste riforme possano risollevare questo paese, perché effettivamente è l'economia italiana che ormai zoppica da troppo tempo e che deve cominciare a deambulare correttamente. Sappiamo che lei si è occupato in prima persona anche delle problematiche legate al sisma, l'ultimo sisma, ci sono anche tante problematiche legate al sisma 2009, quali sono le principali e cosa possiamo dire insomma agli abruzzesi e ai terramani in modo particolare? Allora, abbiamo qualche settimana fa provato il decreto Genova con veramente un pacchetto importante per i comuni colpiti al sisma, abbiamo presentato come gruppo parlamentare un pacchetto di emendamenti alle leggi bilancio, nella legge bilancio è già previsto il prorogo dello stato di emergenza e risorse per la gestione commissariale. Io ho presentato insieme agli altri colleghi del Movimento 5 Stelle una serie di pacchetti che non è detto che vengano tutti approvati, perché è vero che abbiamo destinato tante risorse, ma la coperta è corta, anche perché lo scorso mese siamo stati colpiti da parecchie emergenze in tutta Italia, abbiamo 11 regioni che sono state colpite dalle alluvioni e hanno chiesto lo stato di emergenza, si è stimato che in questo caso i danni siano 3, 4, 5 miliardi di euro. Tra parentesi, chiedo scusa, apro e chiudo a parentesi, proprio di questi giorni altre scosse e sismi che per fortuna non di grande rilievo in Emilia Romagna e in Campania, quindi insomma il nostro paese è anche tale per cui l'intero governo deve star sempre pronto ad intervenire. E quindi, però diciamo che il pacchetto che è stato presentato è un pacchetto importante, vediamo poi cosa passerà in queste ore e in discussione, soprattutto andrà in discussione domani, il pacchetto emergenze, però se anche non dovesse venire tutto approvato, il dato importante qual è? È che bisogna attrarre risorse per far ripartire il ciclo economico, quindi sicuramente abbiamo presentato la proroga di tutto quello che è di tassazione per imprese che operano nei comuni colpiti al cratere e ho presentato anche la proroga e 120 rate per la busta paga cosiddetta pesante. Quindi quello è un emendamento a mia prima firma, io spero che il governo nei prossimi... Vogliamo spiegare di cosa si tratta? Si tratta della... noi cosa succede? Che quando è stato il terremoto, lo Stato, il governo ha concesso una sospensione dei tributi ai lavoratori dipendenti. In questo caso il governo precedente aveva stabilito che questa sospensione fosse limitata a un certo periodo, quindi di un anno, e che i cittadini dovessero andare a restituire queste somme poi a partire da giugno 2018. Grazie al nuovo governo siamo riusciti a andare a spostare il termine al 19 gennaio 2019 e una rateazione di invece che due anni, cinque anni. Quindi questo è quello che c'è oggi. Perché obiettivamente sì, dare una mano all'inizio va bene, ma se poi dopo due anni mi ritrovo sul fardello una importante somma di denaro da dover restituire, insomma sì mi hai agevolato inizialmente, ma poi sto ripagando con gli interessi l'agevolazione. Sì, la mia proposta, che spero venga accolta dal governo, è quella di portare la restituzione delle somme in dieci anni. Quindi in linea anche con quello che è stato fatto a sua volta all'Aquila, c'erano altre situazioni di bilancio, c'erano molte più solide disposizioni dello Stato, però se venisse approvato questo è veramente un ammendamento importante. Poi ci sono altri provvedimenti che se non entreranno tutti nella legge di bilancio, penso che dovranno far parte di un pacchetto, in questo caso anche di una legge dello Stato, presentato proprio una serie di emendamenti che consentono di attrarre investimenti, fondo per la ricostruzione, che se non entrano dovranno entrare una legge ordinare dello Stato che non riguarda le problematiche solo del terremoto, ma un po' di tutte le aree interne dell'Italia. Noi abbiamo circa, sui 8 mila comuni italiani, circa 4 mila comuni che sono su aree interne e quindi hanno delle problematiche specifiche questi comuni, ad esempio i comuni della montagna. Per fare questo servono misure, se vogliamo, straordinarie. Su questo dovremmo però trovare la flessibilità con l'Europa, perché molto spesso l'Europa è sorda sulle specificità delle varie regioni italiane, però sono convinto che abbiamo 5 anni a disposizione e quindi lavoreremo su questo passo. Per quanto riguarda il sisma 2009, noi abbiamo una serie di problematiche qui. Abbiamo la restituzione delle tasse per le imprese, che è stata avviata dal governo precedente, in questo caso nel 2009, la faccio breve, era stata anche in questo caso data una sospensione delle tasse alle aziende dell'Aquilano, però abbiamo anche esempio Montorio. Però è stata avviata una procedura di infrazione per aiuti di Stato su questi aiuti. I governi precedenti non hanno obiettato all'Europa, quindi non hanno fatto un ricorso contro questa procedura, anzi hanno dato ragione all'Europa e quindi ad aprire 2018, appena insediato il nuovo governo, grazie all'opera del governo PD, è iniziata la procedura di discussione. Quindi noi abbiamo bloccato questa procedura, adesso tenteremo di andare a ribloccare questa procedura con la legge finanziaria, adesso vediamo se rappresenteremo la Camera o il Senato e quindi per bloccare definitivamente questa problematica, non è semplice. Quindi ci stiamo lavorando, abbiamo fatto approvare tanti emendamenti anche nei decreti di emergenza a Genova. La pressione sul governo per quanto riguarda la ricostruzione è massima da tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle. Onorevole Zennaro, una battuta flash perché poi dobbiamo anche trovare almeno 5 minuti per parlare di elezioni regionali che ormai sono alle porte. Cosa ne pensa dell'operato del direttore dell'USR, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di Taramo, questa lentezza, il Presidente Lolli vorrebbe, sembrerebbe sostituirlo? Ci sono delle pressioni dell'una e non dell'altra parte? Allora, l'USR è un'emanazione della Regione Abruzzo, quindi come è stato organizzato da chi è stato gestito è la conseguenza di una scelta fatta dalla Regione Abruzzo, quindi su queste responsabilità mi sembrano chiare. La cosa che noi abbiamo fatto emergere come Movimento 5 Stelle è che la Regione ha messo a disposizione solo un tecnico di quelli che attualmente delle 12-13 mi sembra che ci sono e l'organizzazione è totalmente sbagliata perché ci sono 16 amministrativi, cioè un terzo sono tecnici e i due terzi amministrativi, mentre per un Ufficio della Ricostruzione andava fatto l'incontrario, andavano fatti due terzi tecnici e un terzo amministrativi. Quindi in questo caso hanno sbagliato tutta l'organizzazione. Io non ne faccio una colpa delle singole persone, quindi non do la colpa a chi oggi dirige, io do la colpa alla politica, perché faccio quello in questa fase della mia vita e la politica deve trovare le soluzioni. Troppo spesso si dà la colpa a chi lavora, ma non è la colpa della politica perché deve trovare le soluzioni. Quindi prima la Regione si muove a trovare i tecnici, li trovasse dai vari uffici dell'Aquila o di Pescara dove vuole, però deve spostare tecnici perché l'ufficio oggi per la ricostruzione di Teramo è sottodimensionato, quindi servono le persone subito, le trovassero dalla provincia, le trovassero da qualsiasi posto. L'importante è che l'USR di Teramo abbia le persone. Parliamo adesso di elezioni regionali. La prima candidata ufficiale è stata senza dubbio Sara Marcozzi per il Movimento 5 Stelle. Ci si prepara ad una battaglia, anche se i nomi ad eccezione di Fabrizio Di Stefano per quanto riguarda il centrodestra e il centrosinistra non sono stati ancora definiti. Lei pensa che l'Abruzzo sia pronto a recepire il Movimento 5 Stelle al governo della regione stessa? Allora, io qua voglio dire una cosa importante. Il 10 febbraio per il popolo d'Abruzzo è un referendum. È il referendum tra il cambiamento e quindi il Movimento 5 Stelle o la solita politica. Li abbiamo visti, li abbiamo visti all'opera. Io sinceramente non sono contento personalmente di quello che è stato fatto, da come è stata gestita la regione d'Abruzzo già da D'Alfonso, adesso da questo interim di Lolli. Vedo un centrodestra in forte affanno e una riedizione di un, se vogliamo, Chiodibis. È quello che si va ormai in queste ore andando a costituire. E poi dall'altra parte abbiamo forse, avremo la candidatura di Legnini o di chi altri. Questo non importa. Io penso che la regione Abruzzo abbia lavorato male negli ultimi anni. Penso che ci sia un forte gap su quello che si può fare sul turismo, su quello che si può fare sulle infrastrutture, su quello che si può fare sulla sanità, su quello che si può fare sui fondi europei. Non facciamo europrogettazione in regione Abruzzo, o se lo facciamo lo facciamo male. E quindi il 10 febbraio per noi e per tutti penso sarà un referendum tra chi vuole cambiare questa regione o chi vuole mantenere quello che c'è. A quanto pare i primi, i primissimi resoconti danno il centrodestra per Vincente, se poco in percentuale rispetto al Movimento 5 Stelle al centrosinistra. Sono indagini, sono dati che si possono prendere in considerazione seriamente? Guardi, io penso che il miglior sondaggio sia quello che faccio tutti i giorni andando a trovare gli attivisti, gli elettori tra i bar o tra le strade, tra i mercati. Io vedo che tra la gente il Movimento 5 Stelle è la prima forza, soprattutto la gente vuole, respira aria di cambiamento. Non credo ai sondaggi fatti dai sondaggisti, anche, ripeto, nella campagna elettorale che abbiamo fatto quest'anno, il 4 marzo, tutti i sondaggi ci davano tra il 24, 25 e comunque non vincenti. Poi alla fine abbiamo preso il 33%, c'è stata una voglia di cambiamento a 360 gradi. Io penso che noi questa volta possiamo governare la regione, ci sono tutte le condizioni, una squadra che ha combattuto l'Alfonso per 5 anni, penso che ci siano tutte le condizioni e non credo ai sondaggi e questa volta penso che i cittadini finalmente vogliono cambiare quello che c'è oggi. Quindi una presidente donna per la prima volta alla guida della regione Abruzzo. Avremo con molta probabilità una presidente donna, presidente donna che ha lavorato con forza, con tenacia, hanno fatto un grandissimo lavoro anche per quello che è tutto il taglio dei costi, hanno tagliato i vitalizi anche in regione Abruzzo la scorsa settimana, hanno fatto una restituzione perché noi eletti del Movimento 5 Stelle andiamo a restituire una parte importante del nostro stipendio, c'è stato Di Maio all'Aquila dove hanno donato come gruppo regionale quattro ambulanze alle varie AS della regione. Mi sembrano segnali importanti, segnali di cambiamento, volontà di finalmente far ritornare e avvicinare la politica ai cittadini. Ci auguriamo tutti che questo accada a prescindere poi da chi appunto guiderà l'Abruzzo e chi guida lo Stato, deve essere il super partes naturalmente. Grazie all'onorevole Zennaro, buon lavoro quindi speriamo insomma che questo paese si rialzi e l'Abruzzo naturalmente con esso. Grazie ancora, grazie naturalmente anche ai nostri telespettatori. Buon proseguimento di serata.